Un grande schermo! Tutta quest'erba che continua a coprire il cemento, non possiamo altro fare altro che, non lo so, cosa ci suggerisce il nostro patriarcal? No, innanzitutto buonasera a tutti, sì, indubbiamente si tratta di qualcosa di indicibile, qualcosa in grado anche di, non solo frutto dell'animo umano deteriorato, Ma quest'erbaccia, insomma, questo problema che ormai sappiamo è molto presente, il fatto che l'erba stia coprendo la vegetazione, stia coprendo il nostro caro cemento. Sì, no, purtroppo, allora il problema va risolto, va risolto indubbiamente, l'erba va bruciata.